Limitare la presenza di personale e dell'utenza negli uffici aperti al pubblico degli oltre 500 comuni italiani, salvo che per i servizi necessari affronteggiare l'emergenza e servizi pubblici essenziali. A deciderlo, con una nuova ordinanza, il presidente dell'Aggiunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, convinto che si debbano ulteriormente limitare i contatti tra le persone per contenere il contagio da coronavirus Covid-19. Il riferimento va ad esempio agli uffici dell'Anagrafa ed altri per i quali, secondo il Governatore, non ci sarebbero urgenze da giustificare il rischio. Del resto, in questi giorni i comuni hanno ribadito la proroga per la scadenza delle carte d'identità, evitando ai cittadini che dovessero rinnovarla di recarsi negli uffici. L'amministrazione pubblica comunque resterà operativa per lo svolgimento delle attività urgenti ed indifferibili o comunque non effettuabili in via telematica, seppur esclusivamente su prenotazione. Ma l'ordinanza regionale ha introdotto anche un'altra restrizione, ancora più pesante per l'economia campana, quella della chiusura dei cantieri edili almeno fino al prossimo 3 aprile, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, per dare la possibilità alle aziende di mettere in sicurezza le aree interessate e provvedere alla chiusura temporanea delle attività. L'ordinanza fa riferimento in particolare ai cantieri privati, fatti salvi gli interventi urgenti, strettamente necessari a garantire la sicurezza e la funzionalità degli immobili e, in quel caso, con l'impiego dei dispositivi di protezione individuale. Un provvedimento che interessa, seppur in maniera differente, è anche i cantieri pubblici per i quali le stazioni appaltanti dovranno valutare la possibilità di differire alcune lavorazioni o interventi programmati. Per il resto, invece, l'attività proseguirà in particolare per le reti di pubblica utilità ed edilizia sanitaria rispettando le procedure di sicurezza.